Anche tu Jonathan hai finito di fare del male Eccovi i soldi della taglia per aver ucciso il bandito Dovrebbe passare subito Eccolo Buon sparare non possiamo continuare a uccidere per denaro Sta dritto Signorino Non lasciarmi No 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 Ciao ragazzo, cerca di seguire un'altra strada. Arrivederci e grazie di tutto. John, John, sei guarito? Sono contento di vederti. Alza le mani. Barbo. Sì la pistola. Sì la pistola. Sì. 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 Sì.